Al The Space Cinema di Montebello torna Voghera Film Festival, la grande festa del cinema indipendente internazionale. Tre grandi eventi ad ingresso gratuito. 4 novembre Notte Horror 5 novembre Cortometraggi 6 novembre Videoclip, animazione e documentari Dal 4 al 6 novembre Voghera Film Festival 2016, al The Space Cinema di Montebello della Battaglia. Inizio proiezioni, ore 21. Buongiorno a tutti e benvenuti a Vox Populi. Anche oggi tre persone fermate in maniera casuale nelle vie di Voghera commentano la notizia del giorno. Campagna elettorale basata su insulti e fatti personali. Non mi piace questo tipo di campagna elettorale, dovrebbe essere impostata sulle proposte per la città. Sono le dichiarazioni di Carlo Barbieri. Cosa ne pensa di queste dichiarazioni? Beh, se dobbiamo fare il bene di qualcosa, dobbiamo andare a vedere qual è il bene. Se c'è un problema, va risolto. Parlare del problema non lo risolve. E andare a parlare su altre cose vuol dire che non siano degli argomenti necessari per poter risolvere il problema. Se tu hai bisogno di una nuova giacca, è inutile che ti dico che fai schifo con le maniche corte. Ti dico andiamo insieme e compriamo la giacca insieme. Così risolviamo il problema. Né ti dico che fa freddo, ma se tu avessi una giacca, perché così parliamo solamente del problema e non lo risolviamo. Tu hai avuto modo di seguire la campagna elettorale fino ad oggi? Sinceramente no. Tutto quello che succede in Italia non mi interessa. Nemmeno? Non siamo più uno Stato che vale la pena di essere seguito. Ci hanno abbandonato. E allora? Quindi neanche la politica locale, nella città dove abiti? Guarda, da quando è morto Pertini la politica è morta con lui. Concordo pienamente. Sarebbe opportuno che si ritornasse alla vecchia sana politica del fare e non dell'urlare. Oramai mi sembra che abbia preso il sopravvento. Beh, insomma, sono delle relazioni un po' forti, diciamo. Non è nelle mie cose, purtroppo penso diversamente. Una campagna un po' più di proposte, di consensi tra l'un e l'altro forse andrebbe meglio. Sì, in un certo senso, comunque Barbieri ha proprio sottolineato che la campagna elettorale di Pierezzo Ghezzi e Partito Democratico è incentrata su delle frecciatine personali, comunque degli attacchi personali più che sui problemi della città. Secondo lei è effettivamente così? No, diciamo che tra l'uno e l'altro c'è un po' di... Comunque, diciamo che queste campagne normalmente vanno su... Non dovrebbero andare su insulti, però molte volte purtroppo non si riesce a capire, cioè a comprendersi, ecco, tra l'altro. Se dovesse dare un consiglio personale ai due candidati, che consiglio li darebbe? Basterebbe capire i veri problemi della città, invece di stare nelle loro macchine, negli uffici o altro, che escano la sera, ma non per andare nei locali, nei bar, che escano a vedere cosa è diventata voghera, che capiscono il problema con mano, che abbiano paura di sporcarsi le mani e di rischiare, vedano quali sono i veri problemi. Direi di dare seguito alle promesse che fanno. Stare calmi e fare più fatti, forse, sia per uno che per l'altro. Adesso non voglio né bianco né nero, però in conclusione di andare un po' più d'accordo e cercare di far andare bene la città, ecco.